Anche quest'anno il Consiglio regionale ha pubblicato l'Agenda Scuola, diario scolastico per gli insegnanti che accompagna maestri e professori da settembre a giugno. Novità di questa edizione, la collaborazione con il Museo regionale di scienze naturali per promuovere e incrementare la cultura scientifica tra le giovani generazioni. L'Agenda viene distribuita gratuitamente agli insegnanti fino ad esaurimento scorte nella sede URP del Consiglio regionale, a Torino in via Senale 14, e nelle sedi URP della Regione nei capoluoghi del Piemonte.